Finalmente mi sono deciso a fare un elenco di tutti i miei libri, a parte anche i numerosi manoscritti che ho ancora non pubblicati, ma altri da pubblicare, i libri che ho fatto stampare o privatamente, cioè a spese mie, quindi senza una casa editrice, oppure anche tramite casa editrice anche di una certa importanza, sono più di 90. Ecco perché mi sono deciso, perché secondo me certo basta un capolavoro, basterebbe pensare ai promessi sposi di Alessandro Manzoni, ma solitamente un pensiero lo si può esprimere attraverso anche diversi libri, magari si tratta un argomento, in un altro libro si approfondisce un altro argomento, lo stesso argomento, ecco più libri secondo me danno la possibilità di esprimere meglio il pensiero anche di un autore, di un pensatore, eccetera. Poi sono libri che trattano anche temi diversi, quindi certo la mistica, mica mistica e problemi anche sociali, religiosi, eccetera, per cui danno una visuale completa anche così di quello che io penso, della mia fede, anche delle mie convinzioni e delle mie lotte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.